Io sono qui, mi diverto in modo innocente, mi sento di nuovo vivo, ricaricato. Volevo dirti, affiderò a Bobby il cliente Chrysler. Mi chiedo solo di aspettare fino a domani. Te sono il produttore e senza di me non ci sarebbe stato nessun fottuto film. Beh, sembra che abbiamo finito gli argomenti di cui parlare, signore. Quanto ti pagano per un lavoro del genere? Sessantamila. Sessantamila! Chi era? Era tua moglie. Beh, non farei niente finché non ho la certezza che abbia veramente qualcosa in mano e poi... poi la ucciderei. Non importa, facciamo lo scambio. Non voglio avere a che fare con quella donna. Barazziamoci nel corpo. E come faremo con il lavoro, con la nostra carriera? Sto iniziando a pensare che potrei fare qualcos'altro nella vita che non sia l'attrice, sai? O che non sia la cameriera. Com'è Los Angeles? A me piace. L'argomento di oggi? Rimorso del bugiardo. È la regola delle centomiglia, Bobby. Quello che succede quando sei a più di centomiglia da casa non conta. I go and wreck your day I'm just going along E' la regola delle centomiglia da casa non conta. E' la regola delle centomiglia da casa non conta. Che succede quando sei a più di centomiglia da casa non conta.